Un commento Presidente? Una scelta molto importante, la trasformazione di questa struttura in ospedale di comunità, una crescita dal basso verso una capacità di assistenza di grandissima qualità e il confine che sta fra la struttura per Acuti e quella del territorio, quindi esprime il massimo in termini di servizio su scala territoriale e la volontà di diffondere un modello in tutta la regione che rafforzando le strutture che stanno sul territorio permettano alle persone di evitare pronto soccorso, ricovero ospedaliero quando è possibile gestirlo più vicino a casa e in maniera più appropriata. Sono tanti posti letto che si sono aggiunti nell'offerta sanitaria regionale e ci permetteranno quindi di dare un modello sempre più vicino ai bisogni delle persone in termini di appropriatezza e di qualità della risposta. Una bella soddisfazione per un territorio che vede così restituita una struttura che un tempo era ospedale, poi diventata struttura puramente territoriale e oggi recupera con l'ospedale di comunità il massimo di servizio legato al territorio e penso grande soddisfazione di tutti. Grazie mille. Grazie mille.